L'Avis è l'associazione volontaria italiana del sangue. L'Avis è un'associazione privata che ha come unico scopo il benessere pubblico. Quando in ospedale serve del sangue, anche per un'operazione ordinaria, servono i cosiddetti donatori, cioè coloro disposti a donare del sangue per chi ne ha più bisogno. Per diventare donatore, l'individuo deve avere almeno 18 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buona salute e avere la buona volontà di compiere un bel gesto di altruismo. Donare il sangue è un gesto del tutto sicuro, perché il sangue si rigenera rapidamente. Al centro dell'Avis vengono fatti degli esami per controllare la salute dell'individuo e per vedere che tipo di sangue ha. Poi viene prelevato il sangue all'occorrenza, perché non si può conservare per lunghi periodi e perché non può essere creato in laboratorio. Oltre al sangue si può donare anche il plasma ogni 15 giorni. Per quanto riguarda il sangue, invece, gli uomini possono donare fino a 4 volte l'anno, mentre le donne 2. Per questo servono molti donatori. Quindi, dorando, anche tu puoi essere un eroe, in modo totalmente sicuro. Grazie a tutti!